Con Paradisola prepariamo Isarobiolus. Schiacciare la ricotta con una forchetta. Incorporare lo zucchero e lavorare il composto fino a farlo diventare una crema. Grattugiare la scorza di un'arancia Versare un cucchiaino di grappa Unire lo zafferano Aggiungere un pizzico di sale Unire il lievito alla farina E amalgamare Incorporare poco per volta la farina al composto Aggiungere le uova una per volta Lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo e un po' appiccicoso E lasciare riposare per 10 minuti Bagnare le mani in acqua tiepida E formare le palline E rinforare le mani in acqua tiepida Assisti all'interno In acqua tiepida Minutati In acqua tiepida Et rinforare il posto Unipasto Frigger in olio bancaldo. Scolare e posare su carta assorbente. Inzuccherare i zarobiolus. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Paradisola.it